buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi nel mentre che aspetto mia moglie per alcune commissioni come al solito vorrei parlarvi della mia scelta del dell'auto elettrica che logicamente non è condivisa da tutti specialmente gli amanti del motore endotermico c'è sempre questa è stata questa diatriba questi litigi nei confronti di chi sceglie una un'auto una vettura elettrica nessuno si deve sentire obbligato a prendere un'auto elettrica questa queste sono scelte di ognuno a oggi vi posso dire che a me sta convenendo l'utilizzo dell'auto elettrica perché non ho non ho ricordo da quando sono senza entrare in un distributore oltretutto oltre a qualche ricarica alle colonnine fatte come prova io sto ricaricando l'auto elettrica dai dei pannelli fotovoltaici quindi pannelli fotovoltaici e batterie quindi completamente tra virgolette gratuito qualcuno mi ha scritto è perché l'impianto fotovoltaico te l'hanno regalato no non me l'hanno regalato però avendolo autocostruito e quindi spendendo meno di un quarto della metà di quello che mi aveva proposto il gestore elettrico per fare un impianto fotovoltaico del genere quindi di 5 kilowatt di pannelli 10 kilowatt di accumulo che tra breve diventeranno 15 kilowatt di accumulo io ho speso più o meno 5 mila euro poco più poco meno adesso non siamo lì a vedere la virgola secondo me ho avuto un grosso risparmio da quando ho acquistato questa vettura e tanto di acquisto non si tratta perché è stata una permuta con il mio edo termico a benzina per cui secondo me il problema principale è valutare a chi veramente conviene o no l'auto elettrica perché io sono il primo a dire che se una persona per lavoro fa 200 chilometri al giorno è difficile gestire un'auto elettrica pur avendo magari una una colonnina in casa non è impossibile però soprattutto qua al sud andrebbero implementate le colonnine di ricariche pubbliche perché ce ne sono veramente poche bisogna secondo me andare in questa direzione ho visto anche qualche video che diceva che se tutti avessimo le auto elettriche il sistema nazionale non reggerebbe durante la ricarica di queste secondo me è una una grossa cavolata anche perché almeno il 40 per cento delle dell'energia elettrica prodotta in italia è da fonti rinnovabili quindi basterebbe comunque continuare andare verso questa direzione e dare la possibilità a chi ha il coraggio parlo di coraggio perché ci vuole coraggio a provare se veramente una cosa conviene o meno ad acquistare un'auto elettrica non è vero che costano tutte tantissimo ma ci sono anche vetture come questa stessa come la Renault Zoe che è un po' di fascia bassa quindi nonostante abbia un'autonomia raddoppiata rispetto alle altre vetture come può essere la Smart Electric questa qui ha un'autonomia dichiarata di 400 km ma logicamente facendo extra urbano e urbano misto scende più o meno a 300 km 340 km ancora non l'ho testata completamente ma ve lo farò sapere nei prossimi video quindi non ci vuole che coraggio nel provare a valutare se l'auto elettrica fa per le proprie esigenze quindi chi parla magari per sentito dire è meglio che parli solo del termico e di quello che conviene a se stessi del termico quindi io ho provato sia il termico che l'elettrico e vi posso garantire che per le mie esigenze l'elettrico è eccezionale ho anche altre vetture a casa termiche quindi un po' il coraggio di prendere un'auto elettrica è dovuto anche a quel fatto perché inizialmente si è vero che spaventa la questione di dover cercare magari quando si fa una gita fuori porta delle colonnine elettriche ma vi posso assicurare che se uno valuta attentamente quelle che sono le distanze da percorrere le colonnine ormai abbiamo i cellulari che hanno gps la macchina stessa ha un gps che rileva le colonnine è facile programmare una gita facendo una ricarica intermedia chi è che non si ferma magari all'autogrill a prendersi un caffè magari andare anche in bagno 20 minuti di ricarica vi aumentano l'autonomia di altri 100-120 km quindi è una cosa fattibilissima logicamente se uno ha altre esigenze è meglio che non prenda l'auto elettrica vi posso assicurare che a me sta piacendo un casino il fatto soprattutto di non dover più guardare i prezzi del carburante che qui soprattutto qui in Sardegna nonostante abbiamo la raffineria della Saras ci fanno pagare i carburanti il doppio degli altri posti quindi io oggi ho visto un cartello al distributore dove la benzina era a 1,993 euro mi pare una follia quindi sono felice di non dover più mettere nemmeno mezzo litro di benzina nella mia vettura quando lo dovrò mettere su questa vettura vuol dire che la dovrò bruciare perché mi ha fatto girare le scatole quindi sarò il primo comunque a dirvi che magari mi sarò stufato di questa vettura o non farà più per le mie esigenze io come sapete nel mio canale dico tutta la realtà dei fatti sinora vi posso assicurare che la vettura elettrica mi sta convenendo un casino quindi vi raccomando iscrivetevi al canale anche perché per quanto riguarda il fotovoltaico questo mese probabilmente prenderò un'altra batteria da 5 kilowatt sempre della IA SunPower per una questione di conoscenza della marca e delle caratteristiche ma ciò nonostante farò subito la modifica a questa batteria la stessa modifica che ho fatto alle altre due batterie cioè aprirla e montare un bilanciatore attivo della NEI per poter ricaricare queste batterie alla tensione di 55,4 quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video buona giornata a tutti io nel frattempo aspetterò mia moglie la mia è una vita di attese buona giornata a tutti